Sono le 12 in punto di lunedì 14 febbraio, buongiorno, bentrovati a tutti voi telespettatori in questa nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione del Veneto e dal Veneto. Come sempre avremo tanti collegamenti in diretta da tutto il territorio per raccontarvi l'attualità, per portarvi le notizie di quello che è successo e di quello che sta succedendo direttamente a casa vostra. Oggi 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati, parleremo anche di questo più avanti nel corso di questo Focus TG che come d'abitudine vi terrà compagnia in diretta fino alle 13.30. Tanti collegamenti, tanti servizi, ma apriamo questa nostra edizione con un ospite, un aggraditissimo ospite che è venuto a trovarci nei nostri studi, sto parlando di Francesco Rucco che è sindaco e presidente della provincia di Vicenza. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora approfittiamo della presenza del sindaco Francesco Rucco per fare un pochino il quadro della situazione, non solo del ruolo della provincia in provincia, in regione, quindi parleremo insomma di opere pubbliche, parleremo di finanziamenti, di PNRR, parleremo di Vicenza candidata a diventare capitale della cultura, ma prima facciamo un quadro che ha un respiro internazionale perché partiamo dalla cronaca, la cronaca che ci sta sicuramente spingendo a seguire con grande attenzione quello che sta succedendo in merito alla crisi Russia-Ucraina, una situazione di politica internazionale molto delicata. Noi sindaco sappiamo che a Vicenza c'è un importante stanziamento di militari americani, partiamo da questo, come si stanno muovendo, qual è la situazione? Beh, naturalmente c'è preoccupazione anche da parte nostra e degli amministratori, proprio per le notizie di queste ore che sembrano, insomma, la situazione si stia complicando ulteriormente in Ucraina rispetto all'avanzata russa. Gli americani hanno un avamposto importante, due basi americane qui a Vicenza, sono due basi tra l'altro dalle quali partono poi i soldati anche per quelle zone, hanno già avuto nei mesi passati da quello che ci risulta delle movimentazioni di truppe proprio per delle esercitazioni e quindi sicuramente c'è del movimento. Naturalmente è tutto top secret perché non siamo tenuti a conoscere i dettagli anche per i segreti militari, ma da questo punto di vista è evidente che c'è una certa fibrillazione anche intorno alla base. Cambiamo discorso, insomma, in questa intervista che il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ci ha concesso proprio per toccare tanti punti prima del nostro primo break pubblicitario. Parliamo del ruolo, sindaco, della provincia in provincia e qui, insomma, faccio riferimento alla sua carica appunto di presidente della provincia di Vicenza perché, insomma, si parla tanto in queste settimane, in questi mesi di PNRR, di finanziamenti, di investimenti, di progetti, ma dove bisogna intervenire, quali sono le priorità per andare a migliorare la situazione? Parlo di infrastrutture, parlo di appunto progetti di valorizzazione del territorio a 360 gradi per tutto l'ambito della provincia di Vicenza. La provincia di Vicenza, in questo mio mandato, è la Casa dei Comuni. Questo è il progetto che abbiamo voluto portare avanti come amministratori, quindi non come esponenti politici, ma come amministratori del territorio. Abbiamo già in questi anni investito moltissime risorse sulle infrastrutture, in particolare sulle strade, piste ciclabili, ciclovie, scuole e ambiente. Queste sono le quattro tematiche e gli ambiti di intervento della provincia nella loro riforma dopo la legge del Rio e in questo momento storico dobbiamo gestire anche una parte del PNRR. Quindi da questo punto di vista ho delegato in particolare un consigliere al mio fianco, che è il consigliere Marsetti, sindaco di Malo, che guiderà una cabina di regia fatta di sindaci, di amministratori, che potranno poi coordinare gli interventi della provincia a sostegno anche dei comuni e dei territori. Quindi la provincia interverrà sui temi, sulle filiere, sulle linee di credito che verranno dal PNRR, quindi scuola piuttosto che transizione digitale o piste ciclabile, quindi ciclabilità eccetera, per poter portare gli investimenti partecipando ai bandi che sono stati aperti una parte in questo periodo alle quali già stiamo partecipando. Solo per parlare della scuola, per farvi capire, abbiamo 28 milioni di euro di investimenti sulla scuola pronti a partire su tutte le scuole superiori della provincia. Occasioni sicuramente per andare a migliorare, a valorizzare le strutture e i servizi. Sindaco, parliamo adesso di sicurezza, sicurezza nel territorio, perché insomma con anche la riapertura, questo lento cammino verso la normalità, quindi riapertura di locali pubblici, faccio riferimento ad esempio alle discoteche, ma anche la possibilità di insomma riavere eventi, manifestazioni e quant'altro. Qual è la percezione della sicurezza che si ha in provincia? C'è il nuovo questore, ci sono tante insomma iniziative che sono state svolte proprio per andare a rendere più sicuro il territorio, ma secondo lei, da quello che è il suo termometro, la percezione di sicurezza nel territorio qual è? Beh, intanto il primo auspicio è che dopo il 31 marzo cessi finalmente questo stato di emergenza legato alla pandemia. Dopodiché torneremo a vivere una vita normale, questo è l'obiettivo, nel rispetto sempre delle regole. L'arrivo del nuovo questore, perché pochi giorni fa ha fatto a Vicenza, in comando provinciale dei Carabinieri, questo comitato interforze che vede anche la nostra polizia locale impegnata sul territorio, dimostra che nell'ultimo mese sono stati tantissimi controlli sul territorio, in città e in provincia, anche nei comuni di Bassano, di Montecchio, altre realtà dove ci sono stati dei problemi di sicurezza, ed è importante dare la sensazione ai nostri concittadini di presenza delle forze dell'ordine sul territorio. La cosa che chiedevo a gran voce anche negli anni passati, finalmente abbiamo avuto una risposta a un riscontro importante. Ne ho parlato anche al ministro Lamorgese, nei prossimi giorni vedrò il sottosegretario Molteni dell'interno, ora si tratta di rinforzare gli organici di polizia e carabinieri affinché si possa dare quella sensazione, quella percezione di sicurezza attraverso la presenza fisica delle pattuglie sul territorio. Questo ci chiedono i cittadini, questo dobbiamo dare. Sindaco, ancora due domande prima di lasciarla, prima di congedarla, come si suol dire. Parliamo della situazione epidemiologica circoscritta chiaramente alla nostra regione, al Veneto. Dati incoraggianti, contagi in calo, gli ospedali progressivamente si stanno svuotando, soprattutto per quello che riguarda le terapie intensive, ma anche le ospedalizzazioni in area non critica. Ne approfitto fra poco. Vedremo insieme il bollettino di Azienda Zero con la fotografia della situazione nelle ultime 24 ore proprio da noi in Veneto. Dicevo, con questo quadro di un virus che sembra concedere effettivamente una tregua, speriamo poi tutti definitiva, qual è la percezione che lei ha? Siamo effettivamente indirizzati verso un progressivo ritorno alla normalità, un addio a tutte quelle restrizioni e problematiche, oppure bisogna mantenere ancora alto il livello di guardia? I dati dei contagi sono effettivamente oggettivamente in calo, ci vorrà ancora qualche settimana di pazienza, speriamo che con il 31 marzo, l'ho detto poc'anzi, si esca dalla fase emergenziale. Gli esperti dicono che questo è il percorso che si sta avviando, il togliere le mascheline all'aperto è già un segnale importante. C'è tanta voglia da parte dei cittadini di tornare alla normalità, noi ci stiamo preparando anche alla ripartenza, anche dal punto di vista delle iniziative, delle manifestazioni nel centro storico, nei quartieri, per ridare un po' di serenità a chi fino ad oggi ha avuto paura anche di uscire semplicemente di casa o se non per andare al lavoro. Quindi c'è la necessità di andare in questa direzione, quindi auspico che quanto viene detto dagli esperti sia vero che si esca definitivamente dall'emergenza e si conviva comunque con un virus che potrebbe essere, grazie anche alle vaccinazioni, molto più leggero nell'impatto rispetto alla salute dei cittadini. Quindi l'auspicio è questo e si torni negli ospedali soprattutto a curare le persone per le malattie molto gravi che magari vivono tutti i giorni, come la fase di tumori ad esempio, che ha avuto inevitabilmente un crollo negli interventi. E parleremo anche di questo nella nostra pagina, nella nostra sezione di Focus Tg dedicata alla sanità. Prima di salutarci, Sindaco, due parole, dobbiamo spenderle su Vicenza, capitale della cultura. Insomma, oramai siamo alle battute finali. Quali sono gli ultimi aggiornamenti e anche un po' le sensazioni da primo cittadino e da presidente della provincia di Vicenza? Quanto orgoglio c'è e anche quanta attesa? È stato un gran successo quello di raggiungere la finale, perché si raggiunge la finale solo se il progetto, il dossier presentato è un progetto all'altezza di un concorso nazionale che ha riflessi anche internazionali. Noi vogliamo portare Vicenza ad essere conosciuta a livello nazionale e soprattutto internazionale. L'effetto si è già visto, ne parlano già a livello internazionale i nostri giornali, come può essere Le Figaro in un recentissimo articolo parlato di Vicenza come una meta turistica assolutamente da conoscere, anche per i francesi. E sono stati tanti i francesi che sono venuti a trovarci l'estate scorsa e la scorsa primavera. Auspicando che ci sia un ritorno anche turistico, ora lavoriamo in funzione del 4 marzo, il giorno dell'audizione finale. Siamo la decima città che parteciperà a questa audizione e cercheremo di convincere al meglio, perché Vicenza è completa in tutti i suoi aspetti, non soltanto dal punto di vista culturale, ma per ciò che rappresenta dal punto di vista sociale, economico, turistico ed enogastronomico, aggiungerei. Perché anche Vicenza qui si mangia anche bene, che è un elemento in più. E noi lo sappiamo, i tanti turisti, i tanti appassionati lo sanno. Noi ringraziamo il sindaco, il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, per essere stato con noi in questa prima parte di Focus TG. Grazie, buon lavoro da qui in avanti. Noi adesso rientriamo in studio perché lanciamo la pubblicità. Ci ritroviamo fra due minuti con tanti collegamenti live, tanta cronaca, tanta attualità. Dobbiamo parlare di sanità, di scuola, di San Valentino, di carnevale. Insomma, un menù straordinariamente ricco anche oggi, a fra poco. Rieccoci in diretta, sono le 12.13 di lunedì 14 febbraio, di questo San Valentino di cui parleremo fra poco. Nella prima parte del nostro Focus TG abbiamo avuto ospite il sindaco e il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, per fare anche il quadro della situazione sulla politica internazionale, quindi le ripercussioni, i risvolti del coinvolgimento dei militari americani stanziati a Vicenza all'interno di questa crisi che si palesa fra Russia e Ucraina. Poi abbiamo parlato di PNRR, di finanziamenti, di investimenti per lavori pubblici, per migliorare la qualità della vita del territorio e poi anche di Vicenza capitale della cultura. Insomma, un'intervista a 360 gradi in cui abbiamo toccato tanti argomenti. Adesso però andiamo avanti e apriamo la pagina dedicata alla sanità, in attesa di collegarci con i nostri colleghi dalle province del territorio. Diamo subito una rapida occhiata al bollettino, al report di Azienda Zero, report che fotografa l'andamento dell'epidemia in Veneto nelle ultime 24 ore, con tutte le variazioni del caso. Come sempre, il lunedì si tratta di numeri da contestualizzare, perché appunto la domenica è sempre difficile raccogliere i dati e fornire dati aggiornati in maniera, voglio dire, completa. Quindi bisogna sempre aspettare poi il bollettino del martedì e del mercoledì per avere il quadro preciso della situazione. Ad ogni modo, indicativamente, guardiamo cosa ci dice Azienda Zero, che il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore ha fatto segnare un più 2.145, quindi veramente sono drasticamente crollati rispetto ai dati di qualche giorno fa, addirittura un terzo rispetto ai dati che abbiamo commentato e analizzato insieme nel fine settimana. Ripetiamo però sempre che sono dati da contestualizzare, da prendere con le pinze. Il fatto sta che si conferma una curva dei contagi in calo, per quello che riguarda le ospedalizzazioni, meno 15 in area non critica, cresce di una unità la terapia intensiva, quindi il ricovero di un paziente in terapia intensiva, e purtroppo dobbiamo constatare anche il decesso di 6 persone nelle ultime 24 ore. Adesso noi lanciamo il primo servizio di giornata, è un servizio che riassume l'andamento dell'epidemia e anche come sta rispondendo la sanità nel Trevigiano. Guardiamolo insieme e poi torniamo per tutti i nostri collegamenti live. Pallano i contagi e la sanità trevigiana si riorganizza per tornare ad effettuare tutte quelle prestazioni sanitarie, visite specialistiche ed interventi chirurgici, sospesi a causa del Covid. Si parte dal 15 febbraio. Verranno chiamati in base all'urgenza, in base ovviamente al tempo di permanenza in lista d'attesa che hanno avuto, direttamente nel nostro CUP, e verranno ovviamente ricollocati all'interno delle varie specialità in modo tale da fare nel più breve tempo possibile le visite. È chiaro che andremo con una ripresa un po' lenta, quindi le persone non si aspettino che tutto venga risolto nel giro di un mese, perché chiaramente 16-17 mila prestazioni specialistiche sono tante e tenendo anche conto che dovremmo rispondere a quelle che si aggiungono. Per cui noi contiamo effettivamente di arrivare in pareggio, mi passi questo termine, con l'estate. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, anche qui si ripartirà a breve tenendo comunque conto che per il Covid ci sono ancora negli ospedali della marca 215 persone ricoverate, 16 delle quali in terapia intensiva. Le terapie intensive sono importanti per gli interventi chirurgici, in modo tale da garantire due aree forti dove faremo dei sargeri, quindi Vittorio Veneto e Treviso, e poi ovviamente lentamente sbloccare anche le sale operatorie per l'attività ordine, quindi nel giro di un paio di settimane, le sale operatorie per l'attività ordinaria. Dovranno comunque essere mantenuti dei presidi Covid per tutti i pazienti che sono e verranno ancora ricoverati a causa dell'infezione da coronavirus. Manterremo come presidi Covid le malattie infettive di Treviso e una parte degli ospedali di Vittorio Veneto, che comunque risorgerà nuovamente come ospedale che farà anche interventi ordinari, perché l'idea è quella di dare la possibilità anche a Vittorio Veneto di riaprire il pronto soccorso e di poter fare interventi chirurgici ordinari. E adesso ci spostiamo nel Padovano. Andiamo la linea alla nostra collega Valentina Visentin che ci porta quali notizie. Buongiorno Valentina. Buongiorno Alex. Per raccontarvi una storia, purtroppo una delle tante che si comincerà a sentire dovuta al caro Bollette, mi trovo in uno degli impianti sportivi più storici di Padova, le piscine nuoto 2000. L'anno prossimo compieranno 50 anni di attività, ma adesso devono sospendere temporaneamente l'attività della piscina perché, pensate, nel mese di gennaio ha ricevuto una bolletta da 88 mila euro, un importo che è triplicato rispetto all'ultima bolletta del 2019 quando l'impianto era a pieno regime, quindi stiamo parlando prima della pandemia, adesso ovviamente con la clientela ridotta dovuta alla pandemia e il caro Bollette si fa veramente fatica a continuare a gestire una piscina così grande e il titolare si è visto costretto a chiudere temporaneamente l'impianto spostando, tenendo aperto solo una vasca e un'altra piscina che ha in città per consentire almeno l'attività agonistica e di fatto lo stabilimento che vedete qui alle mie spalle continuerà solo per il tennis, il paddole, la palestra ma tutte le piscine verranno chiuse proprio per questa bolletta da 88 mila euro, esorbitante, triplicata rispetto al 2019, 15 mila euro solo di IVA e ci sono stati tassati tutti quegli oneri che invece tutte quelle tecnologie che noi avevamo messo in campo come l'impianto fotovoltaico piuttosto che altri apparecchi tecnici per diminuire lo spreco dell'acqua, per il riscaldamento dell'acqua e quindi sono stati tutti tassati, una bolletta record che ha visto appunto il titolare prendere questa scelta per salvaguardare ovviamente il personale con la speranza appunto di poter riaprire con la bella stagione. Ecco Valentina, proprio interfacciandosi con chi gestisce queste strutture con i titolari, con gli imprenditori a livello chiaramente economico, a livello pratico ci hai raccontato molto bene questa situazione difficile, drammatica e le scelte che ha comportato a livello umano, tu che hai avuto modo proprio di guardarli negli occhi cosa percepisci per un impregnitore, per un gestore, per una persona che dà lavoro e dà servizi dover arrivare a una scelta di questo tipo umanamente che sconfitta è? Sì, c'è molta amarezza perché ovviamente si è cercato di investire per migliorare un'attività, un'attività che è sempre stata sana e poi ci si vede appunto con il caro bollette e con questi oneri aggiuntivi nelle bollette dover prendere questa decisione quando insomma invece si potrebbe tenere aperto semplicemente con degli aiuti da parte del governo per far fronte a questo caro bollette ed è veramente un dispiacere ovviamente si stanno prendendo delle decisioni razionali per poter continuare l'attività si spera che siano ovviamente temporanee e che arrivino questi provvedimenti ma c'è molta amarezza perché insomma gestisce da più di 50 anni attività che sono sempre andate bene che hanno resistito anche la pandemia perché insomma le attività sportive come ben sappiamo sono state molto penalizzate le piscine che abbiamo visto l'anno scorso sono state tra le ultime ad aprire e quindi insomma hanno superato la pandemia adesso doveva essere il periodo della rinascita invece ci si trova a fronteggiare questo caro bollette che mette in difficoltà pensiamo i privati figuriamoci grandi attività grandi impianti che hanno piscine, palestre e altre attività Grazie, grazie a Valentina Visentini Alex c'è anche una notizia di cronaca perché ovviamente assolutamente, al giorno ci puoi ovviamente come ben sapete c'è stata la manifestazione Novax sabato in Prato della Valle che poi si è spostata in centro città con l'aperitivo disobbediente circa 400 manifestanti ci sono stati dei disordini un manifestante è stato arrestato e la polizia è stata accertiata dai manifestanti quindi e adesso è in corso il processo cartirettissima di questo manifestante che è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale pensate degli agenti di polizia sono stati presi a salci e adesso è in corso il processo per divertirsi per questo 57enne ci sono anche altre due denunce una persona è stata denunciata per aver appunto preso a salci un poliziotto e è stato denunciato anche il promotore della manifestazione di sabato del Novax di sabato è leader del movimento Veneto No Green Pass proprio per aver invitato e dato appuntamento a questi aperitivi disobbedienti che ci sono stati sabato sera in Piazza delle Erbe a Padua processo in corso ovviamente vi aggiorneremo nelle nostre edizioni dei telegiornali su come andrà a finire questa vicenda assolutamente allora adesso rientriamo in studio grazie a Valentina Visentin noi riprendiamo il filone della cronaca e insomma di fatti che riguardano la sanità abbiamo visto il report di Azienda Zero abbiamo visto come stanno andando le cose nella marca trevigiana adesso però continua a fare scalpore e a creare sconcerto la notizia del buco di 11 milioni di euro in capo al direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza oggetto di un procedimento di liquidazione del patrimonio disposto dalla sezione fallimentare del Tribunale di Treviso vediamo l'eco della notizia che vede l'attuale guida dell'Ulss 7 Carlo Bramezza oggetto di un procedimento di liquidazione del patrimonio disposto dalla sezione fallimentare del Tribunale di Treviso ha suscitato scalpore il collegio giudicante ha espressamente sentenziato che Carlo Bramezza non è stato in grado di far fronte ai debiti maturati al punto da avere creato un buco di quasi 11 milioni di euro negli atti si fa esplicitamente riferimento a un rilevante e insuperabile squilibrio economico imputabile al fatto che Carlo Bramezza ha rilasciato garanzie personali per debiti di due società di capitali di cui era socio investimenti nel ramo immobiliare che sono andati a finire male ma che nel frattempo lo avevano portato a garantire per oltre 5 milioni di euro a favore di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SPA in data 14 maggio 2008 e per altri 5 milioni di euro a favore della Cassa di Risparmio del Veneto in data 21 marzo 2012 oggi i debitori sono cambiati la gran parte dei debiti 5 milioni e mezzo di euro sono nei confronti della nuova frontiera SPV e della concessionaria di Banca Intesa San Paolo denominata Penelope per gli altri 5 milioni di euro a palti, lottizzazioni, ristrutturazioni e gestione di immobili pubblici e privati in quest'ambito gli investimenti garantiti da Carlo Bramezza sono stati un flop portando il giudice fallimentare a dare esecuzione al procedimento di liquidazione del patrimonio ecco che Bramezza su ordine del Tribunale ha dovuto mettere a disposizione tutti i propri beni per far fronte a quel cratere di debiti scavato da una gestione di affari e investimenti fallimentari pignorato un quinto dello stipendio così come la sua abitazione venduto forzatamente all'asta un appartamento per la cifra di 101 mila euro e poi pignorato anche l'arredamento divani, mobili, televisori tappeti e quadri finite nel calderone dei beni messi a disposizione del giudice anche le quote di partecipazione in società estere ora il dibattito dalle aule del Tribunale si è spostato sulla bocca dei cittadini degli utenti dei pazienti dell'Ulse 7 che da tempo masticano amaro è opportuno che il direttore Carlo Bramezza rimanga alla guida dell'azienda ospedaliera della Pedemontana? ovviamente i nostri microfoni sono aperti a tutti cominciando proprio dal direttore Bramezza piccola pausa pubblicitaria torniamo fra poco con alcune segnalazioni drammatiche che riguardano disservizi nella sanità dell'Ulse 7 poi tanto altro di cui parlare dobbiamo anche dare spazio alla festa di San Valentino ai risvolti economici per il rincaro delle bollette insomma tanto di cui parlare a fra poco 12.30 siamo in diretta e lo saremo fino alle 13.30 per tenervi informati su tutto quello che succede in Veneto tanti altri collegamenti tanti servizi da andare a vedere insieme però adesso chiudiamo il cerchio chiudiamo la pagina dedicata alla sanità locale proponendovi questo servizio è un appello è un aiuto che il fratello di una persona disabile al 100% ha rivolto ai nostri microfoni ai microfoni di Rete Veneta perché il fratello ha bisogno di un intervento urgente ma dall'ospedale di Bassano del Grappa finora il silenzio disabile al 100% necessita di un importante intervento chirurgico ma dal San Bassiano nessuna notizia a parlare il fratello Davide Dallapria di Casoni di Mussolente è molto preoccupato per le sorti del proprio caro e ha deciso di rivolgersi a noi lui adesso ha bisogno di un piccolo intervento perché deve mettere la pecca ok perché non può più mangiare per bocca e adesso deve fare l'intervento all'ospedale di Bassano però è settato tutto perché hanno detto che non ha più medici non sono medici ok e adesso ci hanno detto che ci devono dare una risposta prima possibile quando devono fare l'intervento però adesso lui è da settimane che ferma in un letto legato perché non può togliersi il sondino al naso e adesso non ne può più perché un sondino nasogastrico creano un pochi disagi e fastidi soprattutto se portato per settimane ci spiega dalla pria e intanto a causa di un batterio provocato proprio dal sondino hanno fatto saltare l'intervento c'è un limite a tutto e vorremmo che questo intervento lo faccia il prima possibile perché lui è stanco di stare sempre lì immobile a letto sta soffrendo questo momento ha portato pazienza perché ha avuto la polmonite perché i mangiare è nato nei polmoni stava poco bene adesso ha cominciato a star meglio e si vede anche lui sempre in questa situazione magari è nervoso vedi che sta soffrendo hai capito i responsabili dell'RSA di Marostica dove si trova ricoverato il fratello del nostro telespettatore si stanno muovendo per avere dall'ospedale risposte su quando verrà fatto questo intervento non è stata una risposta ancora anche i familiari hanno chiamato più e più volte il San Bastiano sono detto che dobbiamo scrivere una lettera non so guarda ti dico in questo momento ho chiamato anche voi non sanno davvero più cosa fare e lanciano un messaggio ai vertici dell'ospedale faccio un appello che questo problema venga risolto prima possibile perché non è giusto lasciare le persone in questo stato in sofferenza a nuovo termine per settimane non è giusto quindi anche un animale non lo lasci così per settimane non è giusto una sofferenza per me secondo me non è umano tutto ha un limite basta caos sanità una bomba metaforica chiaramente che esplode da Bassano del Grappa ma insomma le onde d'urto si sono diffuse in tutta la regione di che cosa stiamo parlando di un problema serio importante che riguarda il rinnovo dei piani terapeutici per chi soffre di diabete guardate cosa è successo piani terapeutici bloccati per i diabetici dal primo febbraio impossibile rinnovare il programma sanitario per stabilire il quantitativo di materiale necessario per la cura e il controllo della patologia che solo nel distretto dell'Ul 7 Pedemontana coinvolge 10.000 persone impossibile anche per i medici del San Bassiano accedere alla piattaforma online dei singoli pazienti per il rinnovo del piano terapeutico il che significa che chi è malato e ha finito ad esempio le strisce per misurare la glicemia fondamentale appunto nella cura del diabete rischia di peggiorare e molto la sua situazione di salute il problema è stato sollevato nel Bassanese con numerose telefonate anche alla nostra redazione ma riguarda tutta la regione si tratterebbe infatti di una decisione presa da azienda zero che ha rinnovato la piattaforma web senza però trasferire i dati dei pazienti contenuti nella vecchia quindi il materiale che aspettava un utente è sparito dagli archivi degli ospedali veneti e delle farmacie dove lo stesso paziente andava a ritirarlo la protesta è montata sia dai malati che dai medici diabetologi tanto che azienda zero proprio nelle scorse ore ha messo di corsa una toppa alla questione prorogando di sei mesi il vecchio piano terapeutico dei diabetici interessati ma sul piatto anche un'altra questione l'inserimento dei dati dei pazienti nella vecchia piattaforma era praticamente immediato per i dottori con la nuova piattaforma ci serve molto più tempo che va quindi a gravare sulle visite al proposito lunedì 14 febbraio tutti i medici diabetologi del Veneto avranno un incontro online con i vertici di azienda zero per cercare di trovare il più rapidamente possibile una soluzione a questo disagio che coinvolge una fascia molto vasta di popolazione ci sono anche buone notizie che riguardano l'ambito sanitario a partire da questa importante donazione che è stata fatta al SUEM 118 di Vicenza una nuova ambulanza all'avanguardia dotata di uno speciale equipaggiamento è entrata a far parte dei mezzi in dotazione al SUEM di Vicenza una donazione del valore di oltre 100 mila euro che arricchisce la centrale operativa del 118 le innovazioni tecnologiche sono quelle di avere un mezzo che è adibito sia ai traumi della strada quindi è specifico per poter intervenire sull'autostrada sulle strade eccetera perché ha delle attrezzature particolarmente sistemate in modo tale che gli operatori sono avvantaggiati nel loro uso con rapidità oltre al fatto di avere ampi spazi all'interno che consentono ai medici e agli infermieri di potersi prendere cura del paziente e assisterlo nel migliore dei modi strumenti all'avanguardia ad esempio un ecografo avanzato ma anche le attrezzature adatte a effettuare i trasporti di pazienti cardiochirurgici gravi in completa sicurezza tutto questo però viene ulteriormente implementato dal fatto che è un mezzo che in qualsiasi momento può essere allestito per trasportare pazienti cardiochirurgici che sono pazienti che ci creano delle grosse difficoltà perché appunto perché i mezzi richiedono spazi notevoli per poter essere accompagnati questi pazienti devono avere un contropulsatore o un ecmo quindi attrezzature ingombranti e particolarmente costose e particolarmente delicate un'ambulanza che permette tra l'altro con la sua tecnologia di valorizzare ancora di più la competenza degli operatori sanitari nata per intervenire in soccorso delle persone traumatizzate ad esempio in un incidente stradale questo mezzo può trasformarsi in pochi secondi in un alleato perfetto del reparto di cardiochirurgia la filosofia è quella dell'ospedale che va dal paziente come al solito sì e soprattutto con un'ulteriore facilitazione per il paziente e quindi un'ulteriore assistenza un'ulteriore sforzo da parte della nostra azienda e di tutte le persone che hanno collaborato con noi per arrivare a questo risultato oggi è San Valentino lo abbiamo detto e chiudendo la parentesi appunto dedicata alla sanità cambiando discorso insomma introducendo altre tematiche di giornata questo servizio ci permette di andare a capire che cosa ha organizzato che cosa è stato organizzato a Treviso per lo screening del HIV insomma proprio in questa giornata la giornata dedicata all'amore agli innamorati all'amore in sicurezza vediamo un gesto d'amore nel giorno della festa degli innamorati fare il test per l'HIV l'iniziativa per il giorno di San Valentino è dell'associazione Unlights di Treviso che in collaborazione con il reparto malattie infettive dell'ospedale Caffoncello ha organizzato una giornata di screening anonimo e gratuito l'AIDS è una malattia della quale poco si parla ancor meno da quando è scoppiata la pandemia ma è molto importante che sia diagnosticata precocemente l'80% delle persone in Italia ma anche qui da noi a Treviso si infetta attraverso rapporti sessuali quindi le persone non si infettano come 20 anni fa perché utilizzano sostanze stupefacenti o perché come veniva chiamata una volta la peste a gay interessa solo gli omosessuali l'HIV ha una trasmissione per via sessuale e quindi interessa le persone anche eterosessuali fondamentale intercettare il paziente nella fase iniziale dell'infezione quando non ha sintomi anche perché quando sta bene devo dire nella fase in cui anche tra virgolette più pericoloso in quanto può trasmettere l'infezione ad altri e comunque con le terapie attuali la malattia diventa una malattia cronica un po' come il diabete la pressione uno che cura anche l'ipertensione e riesce a congelare la malattia sine die quindi anche per tantissimo tempo se non per sempre adesso ci sono vari farmaci che si gestiscono soprattutto sulla tossicità a lungo termine il paziente fa una vita non praticamente proprio normale come tutti gli altri il test non è invasivo viene effettuato su un campione di saliva l'accesso è libero dalle 16 alle 19 del 14 febbraio nel padiglione F1 di malattie infettive del cafoncello ingresso da via scarpa per l'attendibilità del test non occorre aver mangiato ma neanche una caramella un chewing gum nel quarto d'ora precedente fa una chiacchierata con noi quindi non c'è assolutamente da aver paura e timore di venire a fare il test e questo lo dico soprattutto ai ragazzi più giovani aspettano 15 minuti e avremo il risultato piccola pausa pubblicitaria poi torniamo con i nostri collegamenti live vedo già collegato il nostro collega Daniele Garbin quindi a fra pochissimo 12 e 44 ben ritrovati nella Focus TG la nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione del Veneto e dal Veneto e allora da Vicenza vedo collegato l'abbiamo lasciato un po' in sospeso durante la pubblicità ve l'avevo annunciato adesso pronto più che mai il nostro collega Daniele Garbin che ci farà il quadro della situazione di alcune tematiche so Daniele che ci parli della riapertura delle discoteche ma anche di alcuni lavori e poi del caro bollette quindi a te la linea sì Daniele Garbin ciao Alex un giorno a tutti i telespettatori sì mi hai lasciato un po' frizzato perché effettivamente anche qui la temperatura è scesa come annunciato e qualche fiocco di neve forse riportato l'abbiamo visto anche un'ora fa proprio poca cosa ma insomma qualche cosa che scendeva bianco cioè in questo momento la temperatura è risalita ma meno male ecco gli effetti sì mi trovo nel quartiere San Pio Decimo poco fa si è conclusa la conferenza stampa alla scuola Tiepolo con l'assessore Cristina Atolio la distruzione perché ha concluso ha consegnato i lavori di una palestra la palestra della scuola Tiepolo proprio perché sono stati rinnovati le strutture interne i pavimenti i serramenti è una scuola che ha finalmente dopo un anno di attesa sono 300 gli alunni ha la possibilità di ritornare a fare educazione fisica e sono tutte quelle attività di cui i ragazzi hanno bisogno 120 mila euro però è anche la palestra del quartiere perché ospita le squadre basket ecco un piccolo grande intervento non è banale in questi tempi di poter anche riappropriarci della quotidiana e soprattutto dell'attività fisica ne diamo proprio conto proprio perché non è solo l'ennesima ristrutturazione è il segnale del ritorno e la volontà di ritornare alla normalità anche attraverso l'attività fisica dei ragazzi e delle persone in quartiere gli anziani che usavano questa palestra che finalmente ritorna nella disponibilità tra l'attività del ritorno le discoteche l'hai accennato tu e infatti abbiamo sentito il presidente Fabio Facchini del sindacato il presidente del sindacato locale da ballo di Vicenza per capire come è andato il bilancio di questo primo weekend di riapertura delle discoteche noi l'avevamo sentito prima effettivamente sempre abbiamo seguito proprio come altri suoi colleghi la situazione disastrosa di essere stati chiusi in questo periodo e procrastinare fino a questa data ecco il San Valentino per le discoteche era una deadline che insomma a livello nazionale era stata posta poco fa ho parlato per capire come era andata pare che effettivamente buona parte dei ragazzi siano andati ero curioso capire se prevalesse la voglia di divertirsi comunque di tornare rispetto magari alle preoccupazioni ancora il covid c'è circola e mi diceva che effettivamente è stato una buona data di affluenza poi siamo d'accordo che qualche dato forse lo darà ecco mi rispondeva in questo senso io ho visto che era un quartiere l'altro tema grosso invece del ritorno alla normalità sono in caro bolletta potete vedere c'è questa coda all'ufficio postale del quartiere e ho fatto un giro poco a raccogliere le impressioni proprio di cosa significa che chi ha toccato con mano l'aumento delle bollette cosa significa concretamente ed è effettivamente è arrivata una sorpresa al di là dell'aspettativa ecco la riassumerei così perché il doppio è arrivato ma con un guadagno anche ha trovato persone in difficoltà senza lavoro pensionati con pochissimo ecco si domandano tutti come potranno fare avanti ecco è drammatica la proprio misurata ognuno di noi poi l'ha anche provata sulla propria pelle anche io stesso ho visto un aumento del doppio circa 220 rispetto alle 90 che magari 80 dipende poi dai consumi è così e quindi abbiamo chiesto anche alla politica abbiamo avuto poi un sollecito ecco un modo di poter sentire se effettivamente Draghi potrà fare qualcosa sappiamo che al lavoro e anche qui raccogliamo questa testimonianza è l'ordine del giorno e noi Daniele ti ringraziamo per insomma questa fotografia che ci hai dato di strettissima attualità noi continueremo fra poco proprio a parlare del problema legato al caro bollette ringrazio Daniele Garbin da Vicenza se non hai altre notizie di cronaca Daniele allora ti lasciamo al tuo lavoro buona giornata noi rientriamo rientriamo in studio e come vi dicevo continuiamo a parlare del caro bollette perché perché nel primo giorno del carnevale quindi adesso ci spostiamo a Venezia oltre a grandi emozioni oltre allo spettacolo è andata in scena anche una manifestazione proprio contro il caro bollette in piazza vediamo allo slogan di scaldarsi non deve essere un lusso questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Lucia Venezia si è svolta la manifestazione di protesta organizzata da rifondazione comunista per dire no al caro bollette scaldarsi è un bene primario perché poter affrontare un inverno soprattutto per le persone anziane avendo la garanzia di potersi scaldare nella maniera sufficiente non è un lusso noi crediamo sia un diritto una due giorni di mobilitazione in decine di piazze italiane con una raccolta firme contro gli aumenti delle bollette e il caro vita che colpiscono gli italiani già stremati da salari e pensioni tra i più bassi d'Europa spesso da fame precarietà diffusissima e disoccupazione dicono i manifestanti una signora un'anziana mi ha detto mi è arrivata una bolletta che è praticamente quasi equivalente alla mia pensione io non so cosa mangerò se pago la bolletta la richiesta al governo è di intervenire immediatamente abbiamo già raccolto migliaia di firme nell'ordine di 7-8 mila ormai nel Veneto una prima parte le abbiamo già consegnate ai prefetti facendo delle richieste precise cioè di bloccare gli aumenti di fare come è stato fatto in Francia dove il governo Macron ha deciso che le bollette non potevano aumentare più del 4% e anche che si intervenga sui profitti incredibili che stanno facendo le multi utility sulle tasse e sulle accise in contemporanea in campo San Geremia è andato in scena il flash mob di Lega Ambiente per dire stop alla dittatura delle fonti fossili le associazioni unite nel messaggio a tutto gas ma nella direzione sbagliata contro le bufale fossili e nucleari hanno ribadito come la scelta di puntare su gas e nucleare vada in direzione insensata e contraria rallentando lo sviluppo delle fonti rinnovabili da Venezia a Nove comune del Vicentino dove il rincaro delle bollette sta mettendo in ginocchio il mondo della ceramica vediamo l'effetto boomerang del caro bolletta è arrivato con una certa forza anche nel comune di Nove una crisi dovuta a rincari quella delle attività produttive novesi in particolare per il settore ceramico la situazione è di grande preoccupazione ci sono le aziende in difficoltà perché il caro bollette le sta mettendo in ginocchio non riescono a contenere i prezzi di prodotti che magari hanno già deciso e contrattato come prezzo appunto con gli acquirenti e quindi il rischio è veramente quello di chiudere chiudere una parola che fa paura soprattutto per l'effetto domino economico sociale quando chiude un'attività ci sono delle persone delle famiglie che ne risentono non si tratta solo di economia ma si tratta di società e il comparto ceramico a nove è identitario è molto ampio e quindi l'amministrazione ha convocato ben due attività produttive per trattare il tema in modo specifico con loro un aumento dei costi non più sostenibile bollette che arrivano fino al triplo rispetto agli anni precedenti il problema non si può risolvere con dei contributi che arriveranno e non si può risolvere con dei criteri che vanno ad aiutare a sostenere delle aziende di grandi dimensioni a nove abbiamo un tessuto di ceramiche che va dall'artigianato artistico di piccole attività come di media dimensione ma che fanno fatica ad accedere ai contributi che sembrano esserci quindi la preoccupazione è proprio di dare una risposta adesso per loro abbiamo visto la manifestazione in piazza a Venezia in occasione proprio del primo giorno del carnevale adesso parliamo proprio di carnevale vediamo com'è andato questo primo giorno tanto atteso questo appuntamento che insomma è un'occasione in più per cominciare a pensare a un progressivo ritorno alla normalità lo diciamo sempre lo diciamo costantemente perché effettivamente è uno stato d'animo è una sensazione che manca a tutti noi allora vediamo il primo giorno di carnevale a Venezia carri coriandoli musica e balli tra maschere e mascherine un primo passo verso la normalità lo offre nella prima domenica di carnevale la sfilata organizzata dalla Proloco a Giavera del Montello ecco quindi lo spettacolo della grande parata dei giganti di carta targata carnevale del Massariol mentre nel resto della provincia si è preferita la formula prudenziale di carnevale diffuso con poche piccole manifestazioni dedicate ai bambini e niente carri a Giavera al motto il carnevale porta via ogni male più ridi più sei felice sono tornati i carri che hanno sfilato per le vie del centro ingressi contingentati e super green pass la manifestazione organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale nel rispetto delle norme di sicurezza per concedersi dopo un periodo difficile qualche momento di allegria soprattutto per i bambini prende il via ufficialmente da oggi il carnevale di Venezia sarà un carnevale un po' diverso da quello a cui siamo abituati ma di sicuro un carnevale che è un segno di ripartenza per tutti e si riparte proprio con i punti in varie zone della città dei teatrini come questo in campo San Geremia sono i dieci coloratissimi Wonder Points con Mimicla un attore trampolieri e affabulatori nell'ambito di Venezia Wonder Time spettacoli di strablierie all'interno del programma ufficiale un'edizione diffusa sparpagliata nei campi di Venezia nelle vie di tutta la terraferma e delle isole pronte ad accogliere sia cittadini veneziani sia i turisti di visitatori di visitatori della città in un percorso diverso del carnevale da come se lo aspettano tutti gli anni e questo è anche un messaggio di ripartenza per una città come Venezia anche per la filiera turistica per una stagione che si presenta molto importante quindi anche un carnevale senza il ruolo dell'angelo è un carnevale di strada è un carnevale dove noi invitiamo chi viene a Venezia e gli stessi veneziani anche a vestirsi e quest'anno ci si potrà sbizzarrire con le idee visto il tema del carnevale Remember the Future che lascia spazio ad ampie interpretazioni ho fatto tre carnevali il primo stava andando bene poi è stato chiuso per il covid il secondo è stato un carnevale digitale questa è una nuova sfida perché non pensare al futuro e in questo penso a un futuro di creatività dove ognuno di noi all'interno della propria creatività pesca e traduce in qualcosa che può andare oltre verso il futuro questo è Remember the Future l'acqua sarà ancora una volta il filo conduttore nebula solaris è lo spettacolo che per nove serate animerà nella cornice dell'arsenale i festeggiamenti in laguna le rappresentazioni daranno vita a una serata di giochi d'acqua e fuoco e trasformeranno in arte gli elementi di aria terra acqua e fuoco su imbarcazioni e chiatte galleggianti l'accesso agli spettacoli sarà però su prenotazione e i biglietti si potranno acquistare nel sito ufficiale del carnevale e poco fa in redazione c'è arrivata una nota del Partito Democratico in merito alla questione legata alla liquidazione del patrimonio di Carlo Bramezza direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana al suo buco di 11 milioni di euro di debiti la leggiamo insieme una nota firmata da Davide Giacomini segretario provinciale del Partito Democratico Paolo Costa coordinatore PD dell'area tienese e Giannina Scremin coordinatrice PD dell'area bassanese come ricorderete insomma il procedimento nei confronti di Bramezza è stato avviato perché aveva stipulato delle fideiussioni per un valore di circa 11 milioni di euro per conto di due società di cui lui era socio quando le due società sono fallite il direttore generale dell'Ulss non è stato si legge nella nota che ci ha mandato il PD il direttore generale non è stato capace di ripagare i debiti maturati vediamo insieme il contenuto di questa comunicazione visto il ruolo di dirigente pubblico apicale per cui Bramezza si legge ripeto nella nota del Partito Democratico è stipendiato dai cittadini rivolgiamo al direttore generale delle domande un atto ritenuto doveroso e necessario quali sono le domande che a questo punto vengono rivolte al direttore generale Bramezza la prima le società su cui agiva e in cui operava Bramezza hanno partecipato ad appalti pubblici e se sì a quali la seconda domanda riguarda l'ambito in cui operavano queste società e l'ambito in cui operavano le fideiussioni andate a male di cui Bramezza si era fatto garante il PD quindi chiede chiarezza su questi aspetti e rincara i vertici della regione erano a conoscenza di questo importante attivismo di Carlo Bramezza nel settore privato in conclusione il PD chiede al presidente Luca Zaia all'assessore alla sanità della regione Veneto Manuela Lanzarin con che criteri venga scelto un dirigente di una ULS che ha prestato fideiussioni per oltre 11 milioni di euro non vogliamo in nessun modo si legge in calcio alla nota intervenire nella sfera privata del dottor Carlo Bramezza ma chiediamo se si intende confermarlo nella gestione di un'azienda pubblica che sposta milioni di euro come l'Uls 7 Pedemontana questa è la nota lo ripetiamo a firma del Partito Democratico del segretario provinciale Davide Giacomin del coordinatore tienese Paolo Costa e di quello dell'area bassanese Giannina Scremin adesso ci prendiamo un attimo di pausa torniamo subito con l'ultima mezz'ora di Focus TG che sapete d'abitudine essere la parte frizzante con tanti argomenti tante notizie tante curiosità insomma a fra poco Ben ritrovati a Focus TG 13.04 siamo in diretta lo saremo per poco meno di un'altra mezz'ora in cui insomma sono tante le cose di cui dobbiamo parlare iniziamo con un punto della situazione generale di come stanno andando le cose nelle scuole per quello che riguarda i contagi ci spostiamo nel Vicentino perché fino a una settimana fa erano 18.000 gli studenti in quarantena nel frattempo sono cambiate le regole la situazione vediamo come si è evoluta la pandemia sembra proprio aver attenuato la presa la curva dei contagi si conferma in calo e le nuove norme meno restrittive anche per la scuola che tanto avevano complicato la vita di famiglie e dirigenti sono state accolte con sollievo anche dai presidi mi sembra che ci sia un cambio di rotta perché come avrete visto tutti c'è senz'altro una semplificazione sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria alle medie e superiori con un positivo in classe la didattica prosegue in presenza con l'obbligo delle mascherine FFP2 come anche con due casi dove solo gli studenti non vaccinati vanno in dad per cinque giorni autosorveglianza e quarantena scattano dal secondo caso positivo una semplificazione considerevole ma le critiche non mancano non posso non pensare che si possano sempre comunque fare provvedimenti semplici per far fronte a situazioni complicate quello che noi abbiamo rilevato e anche dal confronto con i colleghi è l'obbligatorietà o meno di presentare la certificazione medica al rientro dall'isolamento fiduciario quindi soltanto per i casi positivi sono arrivati anche dei finanziamenti da parte del ministero che danno la possibilità alle scuole di acquistare direttamente le mascherine in questione è chiaro che sarebbe stato preferibile che queste venissero fornite direttamente alla struttura commissariale come è sempre stato fatto importante l'aver ridotto le quarantene specificando la retroattività dei provvedimenti come anche aver ottenuto l'immediatezza della situazione scuola per scuola attraverso le piattaforme digitali tra l'altro adesso è disponibile nell'app C19 un settore particolare di questa applicazione che consente il controllo degli studenti basta aggiornarla e questo consente appunto di rilevare la situazione vaccinale della situazione di guarigione degli studenti e a proposito di regole da domani scatta l'obbligo di Green Pass rafforzato per i lavoratori del pubblico e del privato che hanno compiuto 50 anni d'età dagli over 50 insomma senza certificazione verde in corso di validità il lavoratore non potrà entrare appunto nei luoghi di lavoro gli over 50 devono essere sottoposti nei tempi a due dosi di vaccino oppure una dose più guarigione noi facciamo un po' di chiarezza vediamo insieme adesso di leggere uno specchietto molto chiaro esaustivo che ci arriva dall'Ansa in cui sono spiegate passo per passo quelle nozioni quei comportamenti quelle regole a cui attenersi partiamo da quello che riguarda proprio la scadenza di questo obbligo di super green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50 che sarà in vigore fino al 15 giugno 2022 per quello che riguarda le assenze ingiustificate il lavoratore che comunica di essere privo di green pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinarie con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino a quando non presenterà la certificazione appunto il green pass rafforzato per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né nessun altro tipo di emolumento quindi tutto molto chiaro in questa specifica casistica per quello che riguarda le sanzioni quindi a cosa vanno incontro i lavoratori over 50 che non dovessero appunto rispettare questa direttiva la sanzione amministrativa per chi è obbligato a vaccinarsi e venisse colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato varia dai 600 ai 1500 euro ferme restando le conseguenze disciplinari in caso di violazione reiterata la sanzione sarà addirittura raddoppiata altre mansioni per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita il lavoratore per legge potrà essere adibito anche a mansioni diverse e invece per quello che riguarda la positività quindi l'immunizzazione a seguito di contagio o guarigione dal covid comprovata dalla notifica del medico curante determina appunto il differimento della vaccinazione quindi in poche parole guarire dal covid permette poi di procrastinare la vaccinazione queste sono le linee guida chiaramente domani le approfondiremo ulteriormente insieme adesso abbiamo parlato di regole e quindi normative parliamo di una legge una legge importante sulla disabilità è stata approvata all'unanimità in Parlamento su proposta del ministro Vicentino Erika Stefani meno burocrazia maggiore dialogo tra i molti enti pubblici e privati che appartengono al mondo della disabilità un mondo che non sembra ma è piuttosto complicato soprattutto da coordinare la nuova legge sulla disabilità della ministra Stefani è passata all'unanimità di Camera e Senato non succedeva da molto tempo questa è una legge procedurale che prevede innanzitutto un'unificazione una semplificazione delle procedure per l'accertamento dell'invalidità dopodiché verranno creati dei nuclei di valutazione si chiamano multidimensionale che costruiscono attorno alla persona il suo progetto di vita non quello che passa al convento ma il suo progetto di vita che sia anche trasportabile nelle altre regioni e poi cominciamo a lavorare sui famosi LEPS cioè i livelli essenziali delle prestazioni sociali che non abbiamo in Italia ancora a livello occorre indicare l'asticella sotto la quale le amministrazioni non potranno andare nel prevedere un servizio si deve passare dice la Stefani dalla mera assistenzialità al riconoscimento dei diritti della persona diversamente abile per esempio non so parliamo di una persona con spettro autistico potrà parlare con un neuropsichiatra dovrà parlare con la componente socioassistenziale della regione con il logopedista e tutte le varie figure che fanno parte della sua condizione la nuova legge prevede anche la figura del garante dei diritti del disabile che sarà il grande monitore il quale a tutti i livelli avrà la possibilità di sollecitare di indicare se ci sono delle difformità se non sono assicurati i diritti se non sono garantiti i diritti questa è una figura importante ci spostiamo adesso in alto piano per fare un po' il punto della situazione legata al turismo a come stanno andando queste prime settimane del nuovo anno del 2022 soprattutto nella categoria di chi lavora e offre servizi in ambito alberghiero e di ristorazione vediamo una stagione turistica invernale che sta per finire sull'alto piano un inverno questo che verrà ricordato per il Cile Azzurri un clima dolce ma soprattutto per la poca neve che ha lasciato spazio a un manto erboso quasi primaverile la situazione turistica invernale ad Asiago e più in generale nell'alto piano dei Sette Comuni è una situazione caratterizzata dalla totale assenza di manto nevoso questo ovviamente ha creato alcuni problemi per quanto riguarda la continuità delle prenotazioni del sistema nevianche anche se la neve caduta a dicembre ha consentito l'apertura degli impianti sciistici fino a questo momento mettendo in luce anche la capacità organizzativa dei gestori delle nostre schiare lavoro di squadra questo è il motto per un inverno turistico che ha tratti profumo ad estate un applauso ancora più particolare va al centro Fondo Asiago che ha saputo realizzare un circuito di 30 km ancora attivo e offrire al nostro ospite l'opportunità di vivere la nostra montagna anche attraverso lo sci da fondo un clima però che ha messo in difficoltà soprattutto il sistema alberghiero le prenotazioni come dicevo sono ovviamente fortemente penalizzate da questa situazione legata alla stabilità del tempo del meteo attendiamo nei prossimi giorni un po' di neve per continuare a allungare un po' quella che sarà una stagione turistica che ci proietterà poi nella primavera estate aspettando ovviamente l'uscita da quello che è il problema principale per il turismo ovvero la pandemia restiamo a parlare in un certo senso di settore alberghiero perché perché una trentina di vecchi alberghi in disuso diventeranno nuovi appartamenti agli esolo il perché detto insomma in maniera molto semplice la città sta vivendo un vero e proprio boom demografico nella sua storia mai esolo ha avuto tanti abitanti quanto oggi i 26.713 residenti certificati dall'ufficio statistica del comune al 31 dicembre 2021 sanciscono un nuovo record che si inserisce in due decenni scanditi da una crescita quasi costante di popolazione nel corso del 2021 1.513 persone hanno spostato la residenza a Iesolo e anche questa rappresenta una nuova soglia massima 818 invece trasferimenti altrove quello di Iesolo è un exploit demografico al quale possono aver concorso diversi fattori secondo il sindaco Valerio Zoggia che non esclude neanche l'influenza del covid abbiamo visto che le persone visto anche le continue richieste di persone da vicinanza treviso maest eccetera paesi vicini a noi che chiedono informazioni per poter venire abitare qua che nonostante la difficoltà della strada mezz'oretta 20 minuti eccetera preferiscono andare a abitare per effetto appunto del covid in una città in cui ci sono spazi all'apparto abbiamo il mare vicino che si può passeggiare a pochi centinaia di metri si può andare nella campagna nella nostra laguna nelle nostre valli peraltro il consiglio comunale di Jesolo ha approvato la variante 3 al piano degli interventi che sancisce il cambio di destinazione d'uso in appartamento per oltre 600 camere di 27 strutture alberghiere strutture definite obsolete fuori mercato e a volte frequentate abusivamente da persone senza fissa dimora l'anno scorso quando abbiamo fatto il PAT in accordo con l'associazione di categoria in primis l'associazione albergatori quindi non capisco perché adesso arrivano delle critiche proprio da loro e abbiamo deciso di ricovertire ovviamente con dei parametri ben precisi quelle più vecchie quelle chiusi a tanto tempo quelle non fronte mare eccetera una serie di strutture e è sicuramente una cosa importante per la città perché la rende più vivibile più bella come dicevo prima e perché finché ci sarà la mia amministrazione noi stiamo puntando e vogliamo una riesola sempre più accogliente sempre più bella quindi le critiche più di tanto non ci interessano e dalla Francia arriva un appello un accorato appello per salvare il vetro di Murano salvare milioni di storia tutelare la produzione artistica del vetro di Murano nell'isola veneziana fabbriche e fornaci sono in ginocchio per l'aumento esponenziale dei costi del gas il maestro vetraio Giancarlo Signoretto è a Cannes per realizzare un importante progetto di collaborazione con il festival di Cannes e da qui lancia un accorato appello che unisce anche i colleghi francesi le cose non vanno per nulla bene ci sono state fatte molte promesse abbiamo ricevuto dei soldi la regione ci ha aiutato ma non basta dobbiamo andare oltre le fornaci a Murano stanno passando un fortissimo periodo il gas sta aumentando sempre di più e noi non abbiamo più la soluzione alla mano qualcuno deve evitarci adesso non sappiamo più a chi li vuole il vento è una cosa importante i mille anni di storia devono andare avanti questa partita ha superato dunque i confini nazionali oggi mi trovo in Francia e per vivere devo viaggiare però porto sempre in giro il nome di Murano mille anni di storia e la nostra storia sta viaggiando attraverso tutti i paesi dell'Europa io sono in compagnia con un mio collega un mio amico maestro d'Italia francese abbiamo un po' chiacchierato e anche loro stanno parlando molto caro lo scopo e lo vinto del gas si è aperto un fronte comune abbassiamo costi del gas salviamo l'arte del vetro noi non ce la facciamo più se andiamo avanti così chiuderemo per sempre e la mostra sul rinascimento in basilica palladiana stiamo parlando di Vicenza sta andando veramente molto bene facciamo un attimo il punto della situazione la mostra sta andando molto bene raccoglie grandissimi consensi a livello di critica e di stampa nazionale questo è un grande orgoglio perché non si può fare una grande mostra senza rispetto della scienza e della grande cultura ma sta anche avendo un ottimo riscontro di pubblico soprattutto visto il periodo la fabbrica del rinascimento nelle intenzioni del sindaco Rucco nel corso della presentazione lo scorso ottobre è stato il primo atto del piano culturale della candidatura di Vicenza capitale della cultura 2024 una mostra che pur essendo specialistica vuole mantenere anche un carattere divulgativo che catturi il maggior numero di persone per questo abbiamo aggiunto una visita guidata a turno fissa non solo il sabato e la domenica ma anche il mercoledì che parte alle ore 16 il martedì un ingresso in qualche modo riservato agevolato per i vicentini anche della provincia e abbiamo deciso di dedicare una visita guidata il venerdì alle ore 16 al biglietto ridotto per tutti i bambini bambini fino a 17 anni in realtà sono ragazzi però abbiamo voluto premiare i giovani che vengono in mostra per la festa degli innamorati inoltre martedì con un solo biglietto sarà possibile entrare in basilica in due non solo successo di pubblico per la mostra continuano a arrivare gli apprezzamenti di testate internazionali beh devo dire tanti cito le Figaro se mi consentite perché in realtà va a collegarsi anche a Capitale Italiana della Cultura le Figaro ha indicato Vicenza come una tra le mete imperdibili nel 2022 non solo per la mostra ma anche per i nostri locali dove si mangia bene per Palazzo Tiene per le nostre bellezze anche dei parchi e quindi è stata una grandissima soddisfazione perché insomma è stampa internazionale ancora arte ancora cultura ci spostiamo da Vicenza a Treviso per il taglio del nastro al museo di Santa Caterina per la mostra del fotoreporter trevigiano Daniele Macca di tutte queste foto qual è quella che le piace di più questa perché questa perché il talento è saper fare una cosa farla bene ma non saper spiegare perché e come la si fa e questo è il talento di Daniele Macca fotoreporter di Castelfranco innamorato della sua terra e della sua gente e questi sono i risultati del suo talento che fino a ieri ha modellato l'emulsione della pellicola e oggi piega al sentimento il Freddy Beat del digitale tra le sezioni di questa mostra aperta al museo trevigiano di Santa Caterina partiamo dai ritratti raccolti da Macca in 40 anni di avventure tra concerti e reportage così al colorato alton John sul palco si contrappone il bianco e nero di questa suora mentre in un'alternanza di sensazioni l'occhio del visitatore si concentra sui particolari di ogni singolo volto esposto più che fissare il nome e la storia a cui è abbinato poi c'è Venezia e qui il talento di Daniele scorre fermando nel tempo le emozioni dei protagonisti di ogni singolo scatto dalla gioia spensierata della gioventù alla riflessione un po' curiosa di chi vede passare la vita sul campiello guardandola dal balcone una vita quella di Daniele fotografo che inizia il primo aprile del 1996 con un incontro con un grande purtroppo scomparso della fotografia trevigiana Romano Zamattia ho chiesto che avrei voluto fare il fotografo lui ha fatto un sorriso ha detto ma ti noti sei il fotografo che ha negozio si è noto fa già il fotografo si ma mi vuoi fare il fotografo è stato quasi un pesce da aprile insomma esatto un pesce da aprile che dura ormai da 25 anni ma Daniele è soprattutto un reporter che fissa la storia si fissa nella storia riflettendosi nel casco del pompiere come facevano i pittori veneti inserendosi nei quadri che dipingevano e quella recente quella che ci tocca a tutti è il contagio che per molti è sinonimo di costrizione solitudine dolore ma anche qui Daniele esprime il suo talento raccontando lo sgomento di un sindaco lo sconforto di un artigiano ma anche noi che in quei giorni abbiamo cercato di raccontare con le telecamere a chi stava costretto a casa che comunque la vita andava avanti Assessore qual è la foto che le piace di più? Sicuramente quella di Venezia durante il lockdown perché è un simbolo che la bellezza vince sempre anche dopo un momento di vuoto E per chi avesse acceso la televisione se fosse sintonizzato tardi su Rete Veneta quindi avesse perso la prima parte del nostro Focus TG andiamo a rivedere insieme brevemente il report di Azienda Zero report che fotografa l'andamento dei contagi dell'epidemia in Veneto nelle ultime 24 ore ebbene come abbiamo detto prima come ripetiamo ogni lunedì i dati vanno un attimo contestualizzati proprio perché si riferiscono al weekend quindi c'è la domenica di mezzo quindi sono numeri da prendere un attimo con le pinze saranno sicuramente più attendibili e affidabili le fotografie di domani quindi i report di domani di martedì 15 febbraio intanto però anche questi numeri fanno fede e confermano un trend estremamente positivo per quello che riguarda la curva dei contagi che in questo caso addirittura precipita numeri che sono addirittura un terzo rispetto a quelli che abbiamo commentato sabato il delta dei nuovi positivi in veneto fa segnare nelle ultime 24 ore un più 2145 nuovi contagiati che porta il numero dei casi attualmente positivi in veneto a 105 436 andiamo a vedere invece ciò che riguarda le ospedalizzazioni e le terapie intensive perché anche qui arrivano buone notizie meno 15 ricoveri in area non critica più uno invece per quello che riguarda le terapie intensive purtroppo dobbiamo constatare e lo ripetiamo senza fare retorica la parte forse più difficile di questo lavoro insomma del lavoro di cronaca quella di andare a parlare di ulteriori 6 decessi nelle ultime 24 ore rientriamo in studio solo per andare poi a fare il punto della situazione per quello che riguarda i vaccini quindi andiamo a vedere l'altro report che riguarda la campagna vaccinale aggiornamento delle ultime 24 ore quindi dati come vedete che fanno riferimento alla mezzanotte del 13 di febbraio ebbene più 8.863 dosi di vaccino più 501 prime dosi 2.509 cicli completati e quasi 6.000 booster quindi 6.000 terze dosi inoculate nelle ultime 24 ore guardate i dati complessivi i dati complessivi dei vaccinati in Veneto delle somministrazioni di vaccino in Veneto salgono guardate a 10.675.287 si sta andando spediti verso quasi gli 11 milioni di vaccinazioni effettuate in Veneto delle quali 3.162.687 prime dosi oltre 4.400.000 seconde dosi e poco più di 3 milioni di booster andiamo a vedere prima di tornare in studio andiamo a vedere come stanno andando le vaccinazioni nella fascia d'età quella dei più giovani dei ragazzini dei bambini dai 5 ai 11 anni ebbene oltre il 32% il 32,6% ha già ricevuto almeno una dose di vaccino il 27% 27,1% ha completato il ciclo vaccinale il 32,9% ha avuto una dose di vaccino e ha già prenotato diciamo la seconda noi a questo punto continuiamo a parlare di tematiche che sono legate all'epidemia perché la pandemia ha aggravato senza ombra di dubbio la condizione di tante persone di tante donne in tutto il mondo anche a Treviso e allora guardiamo insieme questo servizio cosa vuol dire essere donna oggi nel 2022 cosa significa che cos'è veramente la violenza di genere che cos'è la violenza di genere ma soprattutto da che cos'è che si origina la violenza di genere la violenza di genere si origina da quelli che sono gli stereotipi di genere i cosiddetti luoghi comuni un percorso in sei appuntamenti per andare oltre i giudizi e i pregiudizi creando una rete fra donne ma aperta però a tutti per l'onlus trevigiana protection for kids attiva nel contrasto al cyberbullismo e alla pedopornografia online due anni di pandemia hanno aggravato le condizioni di tante donne acuendo le violenze di genere e l'uso smodato dei social spesso palcoscenici di un linguaggio sopra le righe e misogino da qui io per lei un vero e proprio percorso formativo e culturale con esperti da tutto il mondo e ispirato a Ciori centro antiviolenza del Nepal dove la stessa Nacchiera Sarto ha trascorso un periodo di formazione esperienza tra le schiave sessuali troppo spesso bambine che sarà raccontata senza filtri sarà una diretta in live streaming in collegamento con Katmandu per dare la possibilità alle partecipanti di questa rete di conoscere Ciori di conoscere Ciori ma soprattutto di conoscere le sue partecipanti io per lei sarà aperto ai comuni del territorio alle donne assistite dalla Caritas a scuole e aziende il nostro augurio che facciamo ad alta voce è che io per lei possa diventare un programma quindi un'iniziativa che duri nel tempo coinvolgendo sempre più donne uomini ma anche e soprattutto anche abbracciando nuove situazioni difficili nuove nuove progettualità e a proposito di donne a Cittadella arrivano i nuovi parcheggi rosa parcheggiare diventa più facile per le mamme nell'ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita il comune di Cittadella ha deciso di creare i parcheggi rosa dedicati alle donne in gravidanza e ai neogenitori con prole a seguito di età non superiore ai due anni la polizia locale sta individuando alcuni stali nei parcheggi pubblici di Cittadella esclusivi per i genitori con figli piccoli che devono scaricare con agilità i passeggini i parcheggi rosa saranno opportunamente indicati con appositi segnali verticali e orizzontali e verrà rilasciato uno specifico contrassegno da esporre sul veicolo che confermi la titolarità degli stalli con uno stazionamento su taliare non superiore alle due ore consecutive è davvero tutto per questa edizione di Focus TG non mi resta che augurarvi buon pomeriggio darvi appuntamento a domani e ringraziarvi per aver scelto anche oggi siete numerosissimi l'informazione di Rete Veneta grazie grazie a tutti grazie a tutti